Ciao a tutti, un video tutorial per chi non fosse molto pratico riguardo il funzionamento del decoder SkyQ Internet in questa versione portatile, decoder piccolo salvaspazio. Allora innanzitutto, già è stato collegato il tutto, accenniamo con il tasto on e off del telecomando ricordandovi che il tasto on e off prima si trova anche nel retro del decoder, eccolo qua, penso lo vediate. Detto questo, come ho detto prima, accendiamolo dal telecomando, tasto on e off, premo, a volte ci sta un po', a volte è veloce, come se la pensa. Allora innanzitutto, se voi volete cambiare canale, è importante perché si accende così con lo schermo in piccolo e le opzioni. Insomma, la home screen o la schermata iniziale. Allora, dovete premere questo tasto qua se volete cambiare canale e trasformare lo schermo piccolo a schermo intero perché questo pulsante ha una duplice funzione. Praticamente serve a fare diventare lo schermo piccolo a schermo intero, quindi all'opzione schermo intero oppure all'opzione back, cioè tornare indietro di un passo. Io lo chiamo anche il tasto indietro, cioè andare indietro in maniera generale, insomma, comunque tanto per essere più chiari. Premo questo tasto, questo qua, e diventa a schermo intero. Dopodiché potete cambiare canale. Attenzione perché c'è una particolarità, Sky Sport 1 sul 201 funziona soltanto se attaccate il filo dell'antenda. Ci sono delle particolarità. Comunque, canale 200, ecco, vedete, io ho sbagliato, scusate, 2, 0, 0. Sky Sport 24 Sky Sport 1, se non vado errato, è canale 239 per renderlo funzionante esclusivamente via internet, quindi 2, 3, 9 e infatti ricordavo bene questo è Sky Sport 1 Sky Sport Calcio, stessa identica situazione ormai io lo so a memoria per fare Sky Sport Calcio, per arrivare a Sky Sport Calcio bisogna premere 2, 4, 9 vediamo se ricordo bene 2, 4, 9 Sky Sport Calcio HD per il resto è tutto regolare 2, 0, 3 e Sky Sport Football e via via tutti gli altri canali se volete fare prima potete premere anche queste freccette fa avanti e indietro con i canali in questo caso fa 204 Sky Sport Arena 205 Sky Sport Tennis 206 Sky Sport Action insomma e così via poi in base anche al vostro abbonamento quello che avete disponibile questo per quanto riguarda insomma il discorso di cambiare i canali da quando accendete il decoder nel caso volete andare alle app dovete premere il tasto casetto il tasto home che è questo qua praticamente ritorna alla schermata iniziale potete andare scendendo questi sono i tasti scorrimento e questo è l'ok anche se non ci sono freccette insomma è una particolarità del telecomando Sky del periodo settembre 2022 Sky Internet scendete fino a quando non è arrivata la sezione app automaticamente le carica allora voi premete a destra perché è freccia a destra quale volete io per esempio voglio andare su Netflix e lo apro col tasto ok non lo apro perché non voglio fare vedere il nome del profilo per privacy però insomma ogni app dove andate l'app desiderata premete il tasto ok e si apre d'accordo poi così via volete ritornare allo schermo intero si preme questo pulsantino ritorna schermo intero e si cambia canale e così via insomma sono stato molto sintetico sicuramente mancheranno altri particolari ma sono stato molto sintetico per quanto riguarda alcune caratteristiche e funzionamenti del decoder SkyQ Internet ripeto periodo settembre 2022 ciao ragazzi